Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 91esimo episodio della nostra Master League con l'Inter Swiss Pro Evolution Soccer 2 Signori, allora prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti presenti e per il supporto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Signori, veniamo da uno scorso video in cui abbiamo battuto il Leverkusen 3 a 2 ed è stata una vittoria importante perché comunque abbiamo recuperato dei punticini di mercato non male siamo a 19 punti e la situazione si fa interessante perché diciamo, siamo sinceri il prossimo obiettivo è un certo Cilavert che non so effettivamente in questo momento dove cazzarola sia dove cazzarola è il Paraguay, scusatemi, si sono fregati il Paraguay questa che è la Jugoslavia, la Russia, si sono fregati il Paraguay, la Croazia, la Slovenia dove cazzarola è il Paraguay, Cilavert costa 32, ok non lo compreremo mai signori breve storia triste, non lo compreremo mai va bene, intanto ci andiamo in campo e vediamo di andare a fronte alla prossima battita signori cercate di ottenere un risultato importante, dobbiamo sperarci, dobbiamo sperarci allora, carichiamo la formazione, signori io sto registrando in rapida successione quindi lasciatemi sempre i commenti che io leggo e poi piano piano vedo di metterli in atto per esempio avete detto che se gli altri giocano a 4, noi giocare sulle fasce non ha molto senso allora, noi l'altra volta abbiamo giocato con il 4-4-2 se non sbaglio così, mettendo il Bamba sulla fascia confermiamo questo, signori confermiamo questo e mettiamo Valeri centrale stromer, vorlanden, no, ximenez, espimas, vorlanden, ximenez, bursche, ronaldo, no, bambangida adesso lo scambiamo, bambangida per bursche e bambangida per ximenez, ok vediamo cosa succede, signori, vediamo cosa succede vediamo cosa succede, giochiamo contro il buenos aires l'avevo già detto, non lo so, non me lo ricordo allora, abbiamo un obiettivo, signori, portarci a casa ok, calma, 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 calma comunque non lo voglio dire, ma l'avevo recuperato il pallone non lo voglio dire, ma l'avevo recuperato il pallone Claudio Lopez, che cerca a trovare Ronny che cerca a trovare il Bamba, che riesce a girarsi il Bamba, il Bamba, attenzione il Bamba, l'accelazione del Bamba se ne va, se ne va bambangida, se ne va bambangida inizia a rientrare, il Bamba, inizia a rientrare il Bamba, e poi da nulla, ci prova tira, no, 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 Claudio Lopez, no, no subito un'incursione del Bamba sulla fascia mette un po' di, di preoccupazione con calma, bambangida, per Vorlander Vorlander, che vede il momento di Bambangida che recupera il suo pallone, riesce a portare il Bamba uh, brutto fallo, il ritardo a Bambangida si becca il cartellino giallo va bene, va bene, va bene, ha munito il Bamba ha munito il Bamba, parte il traversone lui era tutto solo come cazzo era lei che era tutto solo la recupera? non mi spiega poi come ha fatto la recuperazione Bursche, Bursche, Bursche calma, calma Ivanov mamma mia, ce la siamo vista brutta mamma mia che ce la siamo vista bruttissima anche questa non è che è bellissima sto passaggio Bambangida, Bambangida, Bambangida Bambangida riesce a crearsi lo spazio per la sua percursione Bambangida, 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 Bambangida Bambangida, vede Ronny, che la tira subito non era un tocco di mano, vero? No, non c'era niente Ronaldo, per Bambangida che riesce a girarsi, Bamba, il Bamba, il Bamba il Bamba, mannaggia a te cerca tu Ramb, che la stoppa, tira no, vabbè signori purtroppo niente, finirà che non la vinciamo sta partita signori non la vinciamo ci siamo mangiati tre gol fatti praticamente, ci siamo mangiati tre gol fatti signori, tre gol fatti quando è così, vuol dire che non la vinci questa partita non la vinci non la vinci non la vinci questa partita signori no, no, ma cioè, boh in teoria se salta dovrebbe tenersi il pallone attaccato ai piedi, se salta se salta dovrebbe fungere da mi tengo il pallone attaccato ai piedi e salta il difensore, invece no, lui è saltato e ha lasciato il pallone lì dove era va bene addirittura Ronaldo Ronaldo viene a prendersi il pallone in difesa dai non ci posso credere signori non ci posso credere che cosa sto vedendo dai, ma non possiamo non tenere fisicamente però, non possiamo non tenere fisicamente calma, Burset, Burset, Burset lancia lungo subito va pancita, va pancita, va pancita, va pancita va pancita, va pancita lancia, lancia, lancia rogni, 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 rogni ventiquattresimo siamo pericolosi ma non abbastanza siamo pericolosi ma non abbastanza ma no sotto, sotto Burset la stacca ancora tu rom dai cazzo no, no mamma mia porca miseria porca miseria cosa ci stiamo mangiando perché ma perché ma perché se hai l'uomo largo sulla fascia ma perché mi deve fare questi errori perché mi deve fare impazzire perché 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 niente siamo in balia del loro gioco non riusciamo a fare più niente non riusciamo a fare completamente più niente non non azzecchiamo più un passaggio un passaggio giusto non lo indoviniamo più babanjita 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 sei andato sei andato babanjita sei creato lo spazio sei creato lo spazio il bamba sei creato lo spazio il bamba rientra babanjita io non ho che altro aggiungere signori non ho che altro aggiungere non ho non ho proprio che altro aggiungere cioè dopo questa traversa di babanjita io posso disinstallare il gioco posso possiamo chiudere qui questa serie signori la possiamo chiudere direi che potremmo anche chiuderla oh si che cazzarola dai così inter 1 buenos aires 0 signori la sblocca lui ronaldo grandissimo bamba l'abbiamo toccata ronaldo l'ha toccata una volta di troppo signori ronaldo l'ha decisamente toccata una volta di troppo lì c'è stato il tiro subito il tiro di prima però vabbè l'importante è che l'abbiamo sbloccata l'importante è che l'abbiamo sbloccata ora riusciamo a tenerla per i prossimi minuti riusciamo a tenerla per i prossimi minuti chiedo domando per un amico domando per un amico riusciamo a tenerla per i prossimi minuti domando per un amico dai cazzarola ma fa salire da giusta ronni ci siamo a finire il primo tempo in vantaggio 1 a 0 non sarebbe proprio brutta come cosa riuscissimo però ma mi sa che non ci dobbiamo riuscire ma è normale è normale porca miseria bravissimo Turam bravissimo Turam Ximenes Ximenes decida di concentrarsi Ximenes Ximenes lancia ronni lancia ronni no no eh vabbè errore mio errore mio errore mio questa volta faccio mia colpa questa volta faccio mia colpa signori la potevamo chiudere la potevamo chiudere al primo tempo la potevamo chiudere al primo tempo faccio mia colpa signori errore mio Abbiamo sulla pelle La traversa del Bamba E questo gol sbagliato di Ronaldo Che è stato nettamente un errore mio Boucher, Boucher Cerca subito Claudio Lopez che cerca Ronny Prevedibile movimento Ronaldo Un vero marco del pallone Beh, sono Turam, Ronaldo Questa volta per vice entrare riesce a liberarsi e cresce lo spazio Ronny, Ronny Che lancia Claudio Lopez Che però è lento, è lento Claudio Lopez, è lento Ma sto scherzando? Che fallo era? Che l'abbiamo presa noi il pallone Perché gli deve regalare queste situazioni? Ma perché gli deve regalare? No No No, dobbiamo riuscire a chiudere la partita proprio Dobbiamo riuscire a chiudere la partita Bravissimo Boucher Lancia il Bamba No C'avevi il Bambangita Vedi perché io non lo capisco questo gioco? Perché dico che questo gioco è buggato, signori? Cioè Avevamo Bambangita completamente libero Avevo Bambangita completamente libero Nelle praterie Nelle praterie era il Bamba Il Bamba era nelle praterie E lui e tu che cosa hai fatto? L'hai data a vie centrali per Claudio Lopez Cioè ma di che cazzo stiamo parlando? Certo Mi ha preso il passaggio quando ti stavo dicendo di spazzarla Riusciamo? Mamma mia che quarto d'ora di sofferenza totale Quarto d'ora di sofferenza totale Fuori fuori Oh freggio Va bene Fuori via sta palla Via sta palla Facci Claudio Facci Claudio Che trova Ronaldo Che riesce a metterla a terra Si riesce a liberare Ronny 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 Si è creato lo spazio Ronaldo Porca miseria C'era forse qualcuno messo meglio Non lo so Non a me abbiamo fatto questo E loro sono ripartiti E loro sono già ripartiti No vabbè Sbagliato io Sbagliato io Lì ho sbagliato io Lì ho sbagliato io Lì ho sbagliato io Però forse riusciamo a recuperare di nuovo Riusciamo a recuperare di nuovo No Innesimo errore mio Signore Innesimo errore mio Dai Comunque loro sono dotati di una velocità sovrumana Cioè loro sono dotati di una velocità sovrumana Io non capisco come cazzo la faccia Magari è loro Magari è loro la rimessa Purtroppo dobbiamo fare tanto mia colpa in questa partita Signore Se dovessimo riuscire ad afferrare il pareggio Dobbiamo fare tanta di quella mia colpa Che la metà La metà basta proprio Perché ci siamo mangiati l'impossibile Ci siamo mangiati letteralmente l'impossibile No 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 Entra in sciogliato E dai così 2 a 1 di Ronaldo Porca miseria siamo riusciti a bucarli difensivamente Grande Ronny Grandissimo Ronny Grandissimo Ronny Ma va ma guarda che fallo Che me l'hanno fatto pure Lui non fischia mai Lui non fischia mai Lui non fischia mai porca miseria Fallo nettissimo sul Ronaldo E lui non fischia mai Bavangita però tu che gli regali il pallone lì Porca miseria a te Bavangita mio Tienela Tienela Bravissimo Spazzala Non ci arriva Ma lì non ci sta nessuno Via 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 Boucher Perché sei in ritardo Perché sei in ritardo Mannaggia Dai Vacci 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 L'angelo Vacci Claudetto Vacci Claudetto In guarda la porta Sei così 3 a 1 Claudio Lopez Dai così Cazzarola Signori Uff Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che sofferenza Porca miseria Grande Claudio Lopez Sì fai tutte le sostituzioni che vuoi Tanto abbiamo vinto Cazzarola 3 a 1 3 a 1 Scrivilo Scrivilo Signori Dai così Dai così 3 a 1 Importantissimo Un 3 a 1 Importantissimo Mamma mia Mamma mia 11 tiri a 9 Doppietta di Ronaldo E un gol di Claudio Lopez E classifica assist man Che si muove Con Babangita Lopez E Boucher Tre punti importanti Signori Tre punti importanti Dai così Dai così Dai così Dai così Sariamo a quota 31 Fai Punti bonus 4 punti base 8 Non so perché mi ha dato 8 punti bonus 4 punti base Vabbè Ce li prendiamo 31 punti signori 31 punti Buono così Buono così Ok Allora 7 punti Ottavi Ok Siamo un bel po' più distanti Dalla zona calda Del campionato Signori E ci sta bene così Detto questo ragazzi Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti E per il supporto E noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao